Noi sappiamo bene di essere in un'arena molto competitiva dove si parla tantissimo di noleggio a lungo termine. Noi parliamo di mobilità a 360 gradi perché il nostro cliente in drivaglia può trovare, a partire dal car sharing, se si trova nelle città italiane, in Italia, di Torino, Milano, Roma, parliamo di un giorno di mobilità, di una settimana, di un mese, quindi con la nostra anima Rentacar parliamo di noleggio a lungo termine perché siamo partiti anche con il noleggio a lungo termine e parliamo di abbonamenti all'auto e abbiamo più di 10.000 utilizzatori che usano i nostri abbonamenti all'auto. Lavoriamo tantissimo sulla nuova tecnologia, lavoriamo tantissimo sul green. Noi oggi abbiamo delle nostre più di 30.000 vetture circolanti in Italia, abbiamo il 35% di vetture alla spina, quindi o elettriche o plug-in. La flotta circolante nei 7 paesi dove oggi drivaglia è pronta sale a 55.000 ma lo share è sempre lo stesso, 35.000. Abbiamo un progetto molto ambizioso di arrivare nel 2026 con una flotta circolante totale di 200.000 ma di salire al 55% delle vetture alla spina. Oggi la mobilità deve essere smart, quindi il nostro approccio deve essere smart. Il cliente sta cambiando completamente le sue necessità. Noi vogliamo parlare non più di breve termine, di medio termine, di lungo termine perché oggi il cliente tendenzialmente sta abbandonando questi vocaboli che rischiano di diventare un pochino agé. Il cliente ha bisogno di una macchina, probabilmente l'ha saputo 24 ore prima e probabilmente non sa per quanto avrà bisogno di quella macchina e quindi drivaglia ti può dare la mobilità nel giro di 24 ore fin quando ti serve.